Prosegue l'innovativa esperienza di Tascan Easy, nata dall'introduzione di un gruppo di soggetti pubblici e privati della Valdichiana per promuovere l'accessibilità turistica per persone disabili. Dopo un primo ciclo di corsi di formazione, l'associazione promuove un convegno dedicato alle buone pratiche di turismo accessibile, in programma al Centro Convegni Sant'Agostino di Cortona il prossimo 17 maggio. E' questo il punto di forza, la creazione di un modello organizzativo che possa dare uno sviluppo e uno stimolo alle nuove imprese del Comune di Cortona ma soprattutto della Valdichiana su questo ambito così importante come il turismo accessibile. Un appuntamento che approfondirà il mondo dell'accessibilità turistica a partire dalle sue opportunità di sviluppo di mercato. Il 20% dei turisti infatti eviterebbero di recarsi in Italia proprio perché il nostro paese non offre infrastrutture adeguate alle loro esigenze. Tra i relatori ci sarà Philip Scott, tour operator britannico, Roberto Vitali, presidente del progetto Village for All, Chiara Bondielli del centro di informazione e documentazione dedicato all'accessibilità della regione toscana, Domenico Prattichizio dell'Università di Siena e Marco Bartoletti a capo di una fermata azienda. Cortona naturalmente ha aderito accettando la sfida di città tradizionalmente inaccessibile perché è una fortezza che doveva essere inespugnabile per poterla progressivamente trasformare invece in un centro di accoglienza per i turisti come d'altra parte anche tradizioni dai tempi del Grand Tour. In particolare il museo che è il suo cuore pulsante si è almeno da dieci anni dotato di una serie di apparati che consentono la piena fruibilità dei percorsi e in particolare percorsi specializzati per non vedenti.